Musica Appianato assoluto 2020 Amarglia Venghi, riservato ai Poni qui nell'Arena Dante si parte anche con loro con la prima prova riservata Emanuele Giordanetti con Crusor Bomb il centro equestre di Pontaciac a Biemonte Marilia Vittone è l'istruttore Iniziamo con Emanuele Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.